Salve a tutti da IS0DCR vediamo ora in questo video, aprendo QR test come si esporta un file adif. Selezioniamo il contest di riferimento che ci interessa fare l'esportazione apri log esistente, si va sempre qua in alto sul log, esporta log, esporta file adif. Se dobbiamo mettere delle note o dei commenti crea e il log esportato. Chiudiamo qui il QR test, uscire sì tasto destro sull'icona selezionando l'icona del desktop proprietà, apri percorso file, andiamo sulla cartellina log se volete evidenziandola si può fare un sempre col tasto destro invia a collegamento desktop in modo tale che questa icona voi la troviate qua sul desktop che io avevo creato precedentemente così ogni volta che voi generate un log andate direttamente qui sul collegamento e vi si apre quella destinazione vedete qua il file iota che abbiamo precedentemente creato lo si può anche trascinare sul desktop l'importazione in questo caso avviene se noi abbiamo un programma come Umbredio Deluxe quindi come vi ho fatto vedere precedentemente aprendo Umbredio Deluxe sul logbook e importandolo come da video precedente spero ecco che anche questo video possa esservi utile al prossimo video grazie a tutti